Il passaporto spagnolo La crescita, divenuta in brevissimo tempo l'epicentro del divaglio delle quattro ruote da competizione di Juan Carlos, esaltata senza dubbio dal fenomeno Alonso e che godrà di un unico motorista, la Fiat, la quale garantirà l'appoggio ufficiale alla categoria. Ecco allora la decisione, Stop & Go apre decisa alla F3 di Spagna, raccontando gara per gara le gesta dei protagonisti nel campionato di Jesus Pareja nell'arco dell'intera stagione. Un appuntamento da non mancare, in cui 30 piloti se ne daranno di santa ragione, tra questi Marco Barba del team Tech Auto e Nicolas Prost, già proprio il figlio dell'indimenticato idolo ferrarista con la Campus Racing.